Hans Leitner è l'organista tedesco che si esibisce nella Basilica del Santuario di Laverna mercoledì 21 agosto a partire dalle 21.20. In questo nuovo appuntamento della 32esima edizione del Festival Internazionale di Musica d'Organo vengono eseguiti brani di Lulli, Frescobaldi, Clérambaud, Bach ed Ermanno Vandelli. Filo conduttore di questa edizione è l'esecuzione della Toccata e Fuga di Bach nella quale si esibisce anche Monsignor Hans Leitner. Nato nel 1961 a Traunstein, dopo la laurea ha studiato Teologia e Musica Sacra Cattolica ottenendo il diploma da concerto in organo a Monaco. Dopo l'ordinazione nel 1992 è stato nominato organista della Cattedrale di Santo Stefano in Passau e dal 2003 è organista della Cattedrale di Nostra Signora a Monaco. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, registrazioni televisive e di compact disc. La comunità francescana di Laverna nel corso di questa edizione del Festival ha voluto valorizzare anche la Biblioteca Musicale del Santuario, un piccolo scrigno di gemme preziose formatosi grazie al contributo di tanti frati musicisti nell'arco di oltre tre secoli di storia. In particolare custodisce i fondi musicali di molti frati compositori, organisti e cantori che hanno prestato la loro arte al servizio del santuario e nei vari conventi della Toscana. Molti di loro, sebbene compositori di fama nella loro epoca, sono spesso oggi quasi sconosciuti. Da qui è nata l'idea di far conoscere tale patrimonio e dare nuova vita a queste partiture, rimaste per troppo tempo chiuse in vecchi faldoni impolverati. Un percorso realizzato attraverso una serie di eventi volti a ricordare e valorizzare le figure religiose e artistiche di tali autori, attraverso una lettura storico-museale volta a comprendere l'evoluzione musicale avvenuta nella famiglia francescana. L'ultimo appuntamento del Festival Internazionale di Musica d'Organo di Laverna è previsto il 28 di agosto alle 21.20, con un concerto di Francesco Di Lernia che esegue brani di Corelli, Gardoni, Bach, Mendelssohn, Reinberger e Angersen.